Nuovo mistero attorno al premio Oscar Leonardo Di Caprio e questa volta al centro dell'intrigo non c'è un'isola della paura, una trottola che non cade, una talpa mafiosa o la nuova fiamma del rinomato Don Giovanni Hollywoodiano, ma l'effettiva presenza dell'attore a Lecce per il nuovo spot della Fiat 600. Lo scorso anno la casa automobilistica italiana ha scelto come volto del suo spot Di Caprio e l'ha confermato per il nuovo progetto ambientato appunto a Lecce. In molti giurano di aver visto lo statunitense girare dalle riprese della pubblicità nei pressi del teatro Politeama Greco, ma i più attenti parlano invece di una controfigura scelta ad hoc per le inquadrature di spalle. Sui social alcune immagini risalenti al 6 giugno hanno immortalato il divo percorrere una strada di Londra in presenza dei suoi familiari. Le foto certo non escludono la presenza dell'attore nel capoluogo barocco, ma il giallo si infittisce sempre più e i fan salentini dell'attore sperano che si possa risolvere nelle prossime ore. Una vera e propria caccia all'uomo, che ricalca nei suoi toni scansonati il thriller spilberghiano Prova a prendermi del 2002, dove però, al posto del diligente detective interpretato dato Manx, ci sono gli ammiratori leccesi.